Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola L'americano in patria è considerato un genio per aver creduto prima di tutti nella tv via cavo e con lui si potrebbe entrare nel grande calcio. Infine la contestazione dei tifosi salva solo Chiesa, il quale starebbe aspettando la società per parlare del futuro. Ballano 60 milioni di euro per il cartellino e un ingaggio da top player che potrebbe arrivare da diversi club europei. Attorno ai 7 milioni di euro. Per Fiorentina1.com, Andrea Valeri Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola